Sono aperte le iscrizioni all'Istituto di Istruzione Superiore Alberico Gentili di San Ginesio, che comprende i licei di San Ginesio e Sarnano e propone un'ampia offerta formativa. Liceo linguistico, liceo delle scienze umane, liceo opzione sociosanitario, liceo scientifico sportivo percorso in autonomia, liceo scientifico opzione scienze applicate. Finalità comune agli indirizzi liceali è la formazione generale dello studente in un ambiente caratterizzato da vivacità culturale e presenza di impianti sportivi funzionali. Iscriviti anche tu all'Istituto di Istruzione Superiore Alberico Gentili di San Ginesio, un liceo dove la cultura si unisce all'innovazione per accrescere il merito. Vieni anche tu!